è nata nel 79, negli anni 90 ha trovato la giusta dimensione di un organico che è questo quindi se questi due giovani musicisti che portano i nomi di Ginghi Ragazzone e Paolo Canevari hanno dato un lato per far partire questa esperienza, poi sono arrivati gli altri nei lontani anni 90 amano spaziale nell'ambito dell'American Music, del cantautorato, a volte vanno in giro anche non come con la full band ma con la band ridotta per eseguire materiale di grandi cantautori e anche materiale loro ma stasera per l'occasione ovviamente ci sono davvero tutti quanti, hanno fatto un bel po' di rischi ma non quanti avrebbero potuto, perché se li sono potuti e come a scuola, il ragazzo merita, è bravo ma può fare di più esatto, e questo naturalmente è un monito e un incoraggiamento a guardarne altri sei e il prossimo si intitola così, numero sei, un album di inediti e inedito è anche un brano di John O'Manson, il cantautorato americano che ha scritto per loro, per loro, siete pronti? ok, proviamo solo l'armonica e poi si parte e si decone ok, ci siamo Bandolini Brothers we're cladene Sì, come on, talk to your daughter for me Sì, come on, talk to your daughter for me She don't make me look like he doesn't need to pay That's right Hey there, baby, please don't do me See there, baby, please don't do me If you don't dance what you do I'm kissing sweet of a prayer You're the best, you're the best 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.